Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio parlarvi dei prodotti che ho finito per quanto riguarda la cura della casa mi scuso per il gatto ma si è voluto mettere qui, in realtà voleva montarmi in collo e fare la nanna in collo a me però qui dietro c'è il muro quindi non ce la faceva e ora è seduta e mi guarda così perché si sta addormentando stupida, va bene allora, si va a vedere che cosa abbiamo finito allora, un prodotto che è quasi finito, non è del tutto terminato però ve ne parlo lo stesso è questo qua, il disinfettante battericida del marchio Disinfetto è un presidio medico chirurgico questo marchio lo trovo ottimo perché è molto economico ed è anche molto valido di questo marchio ho utilizzato per anni l'additivo per il bucato non lo prendo più semplicemente perché io i capi li lavo solamente a 30 gradi a parte le lenzuola e l'additivo di questo marchio agisce da 40 gradi in su quindi non l'acquisto più per questo però mi sono trovata bene questo non è il primo spray che finisco non sarà neanche l'ultimo perché ne ho un altro mi piace, mi trovo bene è un prodotto che non utilizzo sempre ma utilizzo ogni tanto soprattutto per andare a pulire alcune cose specifiche ad esempio il mobile dell'ingresso che è accanto alla porta dove ci appoggio tutto appena entro insomma cose più specifiche non è che ci pulisco tutta la casa rimanendo nel tema e quindi ho terminato queste salviettine del marchio igiene più queste qua sono 60 più 20 le ho prese al DM costano poco mi sono trovata bene non hanno una profumazione troppo forte sono ben imbevute fino alla fine io queste qua le utilizzo per disinfettare le cose che acquisto al supermercato prima di andarle a mettere in frigo o comunque in dispensa mi sono piaciute ho terminato questi panni del marchio L'Unico sono panni tipo quelli della Swiffer di quelli grandi da mettere nello scopettone che non so come si chiama sono ottimi costano 1,10 euro mi sembra sono veramente veramente buonissimi validi catturano molto bene polvere, capelli, peli siccome sono grandi allora il mio scopettone è grande quindi con questo riesco a fare bene riesco comunque a coprire bene tutto lo scopettone se avete quello dello Swiffer vanno bene lo stesso potete tagliarli a metà e così invece di 20 panni ne avete 40 mi piacciono veramente tanto 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 e li acquisto sempre questi io li trovo nel mercato centrale della mia città poi ho finito i miei soliti attiracolore della Gamex sapete che sono i miei preferiti costano 1 euro, 10 pezzi ottimi ho terminato poi il multiuso della Winnis questo qua è l'unico multiuso che utilizzo per pulire casa pulisco tutte le superfici di casa tutti i mobili con questo sia in camera, in cucina, in bagno qualsiasi cosa io la pulisco con questo mi trovo bene mi piace, pulisce bene non crea allergia né a me né alla gatta che è una gatta molto allergica mi trovo bene quindi come multiuso non credo di spostarmi su altri prodotti perché con questo qua mi trovo benissimo poi ho terminato questi sali per lavastoviglie di Home Circus questo qua l'ho acquistato al Tigotà semplicemente perché era quello che costava di meno non vi so dire non so neanche a cosa serve il sale io so solo che la mia lavastoviglie ogni tanto me lo chiede quando me lo chiede io li do niente, mettevo il sale la lavastoviglie non chiedeva più sale e quindi funziona non lo so e io non so veramente non so che cosa possa servire però costa poco e la mia lavastoviglie era contenta quindi penso di ricomprarli poi ho terminato l'amorbidente concentrato eco morbidezza ipo allergenico di Chanteclair Bert con fiori di cotone e oli essenziali questo qua è con il 50% di plastica in meno attivi di origine vegetale biodegradabile eccetera non testato su animali mi piace mi è piaciuto ha una buona profumazione non rimane però forte sui capi se è di pulito non mi ha creato problemi di allergia né a me né a la gatta come sempre i prodotti di Chanteclair Bert devo dire che mi stanno piacendo molto non costano tanto soprattutto queste acuricariche sono accessibili secondo me a chiunque e sono buoni in più appunto sono ecologici o comunque sono più ecologici di altri prodotti e quindi niente penso di riacquistarlo ho terminato poi sempre per la lavatrice la mucina additivo per bucato igienizzante con ammorbidente rimuove germi e batteri questa è la seconda confezione che acquisto questo prodotto mi piace tantissimo non tanto per l'additivo cioè per l'igienizzante perché è una cosa che non possiamo vedere quindi boy all l'additivo lo metto sempre l'ho sempre messo anche da prima di questo periodo questo qua io lo utilizzavo quando andavo a lavare soprattutto gli asciugamani perché ha un'azione ammorbidente efficacissima gli asciugamani venivano veramente morbidi come usciti dall'asciugatrice quindi buonissimo se lo trovo in offerta lo riacquisto in più è un boccione da 3 litri e quindi vi dura un'infinità di tempo non ne serve tantissimo e lo metto al posto dell'ammorbidente fantastico ultimo prodotto anche questo non è la prima confezione finita e non sarà l'ultima mi dispiace tutta sporca è il Citrusil pavimenti disinfettante presidio medico chirurgico qui c'è scritto elimina fino al 99,99% dei batteri e rimuove lo sporco profumo fresco ha una buona profumazione lava bene i pavimenti li sgrassa bene a me piace è un prodotto che utilizzo soprattutto per il bagno l'ingresso e la cucina in camera tendo sempre ad utilizzare qualcosa di allergenico che non dia noia alla gatta perché è la stanza dove lei sta di più comunque buono mi è piaciuto appunto ne sto già utilizzando un'altra confezione ho sempre utilizzato questa profumazione so che c'è anche quello con il tappo azzurro però io mi trovo bene con questo questo c'è scritto che è vera essenza di limone comunque mi piace questo si trova un po' ovunque io lo trovo al DM lo trovo al TigoTap dai verso app si può trovare un po' ovunque ok allora questi erano i prodotti che ho terminato per quanto riguarda la cura della casa fatemi sapere che cosa avete terminato voi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 a tutti Grazie a tutti